Ciao a tutti, oggi prepariamo insieme la ciampella con la ricotta. Iniziamo a preparare la ciambella. Usiamo tre uova interi e aggiungiamo 160 grammi di zucchero bianco e adesso lavoriamo con le fruste. Mettiamo 50 ml di olio di girasole e 75 ml di latte intero. E una bustina di levito per i dolci. Mettiamo 250 grammi di ricotta vaccina. Rattuciamo un po' di scorza di limone. E adesso mettiamo 250 grammi di farina 00. Già sei tracciata. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Imburiamo un stanco per la ciambella. Versiamo il composto dentro e nello stampo. Ciambella è pronta per essere importante. Mettiamo a cuocere la ciambella nel forno già prediscaldato a 170 gradi forno ventilato. Ciambella è pronta e la lasciate a cuocere nel forno per 35 minuti. Mettiamo un po' di zucchero avveno. Mettiamo un po' di zucchero. Mettiamo una fetta di ciambella. Mettiamo un po' di zucchero. Mettiamo un po' di zucchero. Mettiamo un po' di zucchero. Buono. Buonissimo. Molto, molto buona questa ciambella. È proprio sfuggita. Fatti anche buona perché è buonissima. Mettiamo un po' di zucchero. Mettiamo un po' di zucchero. Ciambella. Pagno. 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 Grazie a tutti.